Anche quest'anno l'evento di Noto Liberiana siamo riuscite di nuovo a organizzarlo, questa volta come dicevi appunto la sesta edizione. È per noi una bella soddisfazione riuscire a proseguire anche nel 2023 la rassegna di Noto Liberiane. Quest'anno la modalità è più o meno la stessa, cioè ci sono i soliti concerti che vengono realizzati nel cortile di Palazzo Elmerici, quindi della Biblioteca Liberiana, tranne un'eccezione che abbiamo pensato di far svolgere nella nostra Sala dello Zodiaco perché avrà come protagonista uno strumento particolare, il virginale, che ha bisogno di un ambiente più raccolto e quindi abbiamo deciso di farlo in orario pomeridiano e nella nostra Sala dello Zodiaco. Lo suonerò in un virginale che è uno strumento antico da tasto e è stato realizzato dalla famiglia Ruckers che era una famiglia molto rinomata di scuola fiamminga e quella che ho io ovviamente è una copia dell'originale ed è lo strumento più piccolo in assoluto, quindi quando sarà il momento di fare la presentazione ovviamente se ci saranno dei problemi verrà amplificato un pochino perché è un suono molto bello, ma tanto bello quanto delicato. Il resto del programma è più o meno in linea con quella che è la filosofia di questa nostra rassegna, cioè quello del rapporto stretto tra le nostre fonti, la storia quindi anche locale pesarese e le esecuzioni musicali. Non a caso due dei concerti, degli eventi, a parte proprio dallo studio delle nostre fonti, dei nostri documenti che poi raccontano anche delle storie di musicisti pesaresi in realtà molto poco conosciuti, quindi anche per noi questa è un'occasione per far conoscere qualcosa di meno usuale rispetto ad altre manifestazioni. Allora il nostro spettacolo, dico nostro perché appunto è frutto di una concertazione tra me, la mia collega Anissa Guisi ed Alessandro Pertosa che è un filosofo e scrittore, si svolgerà su un nodo particolare, quello che poi dà il titolo all'opera delle segrete corrispondenze. Fra che cosa? Siamo al Museo Oliveriano, ci sono qui reperti dalla storia romana, italica, etrusca e quindi abbiamo voluto, come sempre facciamo, fare qualcosa ad hoc per questo e quindi abbiamo scelto di narrare attraverso varie forme, quindi la poesia, la prosa e la musica, narrare che cosa? Narrare il femminile all'interno di queste culture che poi sono anche nel nostro DNA. E quindi come facciamo a raccontare questa cosa? Evocando chiaramente attraverso le voci, attraverso la musica, un po' di elettronica e attraverso delle figure anche che attualizzano questa carica diciamo di vita che è il femminile all'interno della nostra antichità e in certo senso anche all'interno di noi stessi. Grazie. 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 Grazie.